Espi, sei pronto? Vai! Sono pronto! Vai, piazza la TNT! Sì, vai! Lì è perfetta! Sicuramente non faremo danni! Ok! Allora, attenzione! Adesso non ci scappo! Vai! Aiuto, vieni, vieni, vieni! Corri, 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 corri! Aiuto! Ok, ok! Iniziamo a ragionare! C'è un tuo dietro! Sì! C'è qualcosa! Allora! E c'è il mondo! C'è il mondo là fuori, lo vedete? Ciao ragazzi! Ciao! Ah! Ma... Eh vabbè, ma dai! Ah! Oggi dobbiamo finalmente fuggire da questa mappa! E sono davvero felice perché io vorrei fuggire da voi tre, non tanto dalla mappa! Ma come? Ma che dici? Eh no, sai, non siete proprio i migliori compagni del mondo! Ma ormai, scusa, siamo fatti per stare insieme! No, 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 no! Invece sì! Guarda, siamo così vicini! Allora, appunto, facciamo che, dato che a me sono rimasti cinque blocchi, li utilizzerò per allontanarmi da voi, quindi faccio una stradina e me ne vado! Me ne lascio giusto uno! Da qui non c'è nessun modo di salire di sopra! Eh no, assolutamente no! Perché abbiamo solo un blocco! C'era una roba viola lì a fianco, quindi me ne sono accorto! Espi, stai attento, mi raccomando! Sì, sì, certo, vai, 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 ti seguo, ti seguo! Aspetta, ma c'è anche un bottone qui, accanto al coso, al tappetino! Espi, io ho detto, c'è un bottone, non ho detto c'è il tappetino, quindi... Ma tu non hai notato quel grosso coso rosa? Io ho notato entrambe le cose, Espi, ma il bottone era rilevante! Lo sai che Espi ha tratto da rosa? Lo sai benissimo, è normale che... Scusate, tagliate, tagliate tutto, scusate! Vai, 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 vengo anch'io, vengo anch'io! Ci sono, ci sono! Ui, premo il passaggio! Vai, premi! Sì, sì, sì! Allora, facciamo vedere a loro cosa c'è, così si beccano tutto quello che può succedere, noi mettiamo... E' una trappola! Espi, te lo apro tutto il tempo, vieni, 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 forza, 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 forza! Vai, Espi! Ok, perfetto, c'è una cesta, Espi, c'è una cesta qui sotto, allora, c'è un libro e c'è scritto come fuggire, 4 enderpearl e 32... Le enderpearl prendo io, e i blocchi li prendo io, tu beccati il libro, che non mi piace leggere. Espi ha rubato tutti i blocchi e le enderpearl, quindi deve darne una testa. Le sto dividendo, non si chiama rubare. Salve, sono Gustavo, un amico di Mustaccio, Mustaccio è quello coi baffi di Gmod che su, per farvi capire. Se volete fuggire dalla mappa, dovrete seguire la lettera a tutti i passi. Ok, numero 1, utilizzare le enderpearl per salire sopra il tavolo. No, basta, le odio! Quindi, dobbiamo saltare, infatti tra pentesi dice buona fortuna, quindi immagino che sarà difficile. Eh, no, è alto il tavolo, è quello il problema. Esatto, numero 2, arrivate alla fine del tavolo e prendete un passaggio per raggiungere il lato cottura. Allora, il passaggio è tra virgolette, quindi non so cosa dovremmo fare lì, e mi preoccupa un po'. Numero 3, cercate in tutta la cucina il carbone, sarà fondamentale per puntini, 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 puntini. Dare fuoco a Steph! Grazie, Ferro. Prego. Uh, potrebbe essere un bel robo, giusto per gradire. Quindi, pensiamo a un punto alla volta, siamo al primo, quindi enderpearl. Allora, io non so se sia fattibile questo volo qua, ve lo dico. Espi? Il più vicino possibile alla lava. Sicuro che ci vuoi provare? Chi ci vuole provare per primo? Sicuro? Ok, adesso. Mi raccomando, saltate! Vai! Salta! Uh! Ce l'ha fatta? Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Ok, a pelo! Ok, io non me la sento, io non me la sento. No, ne fico io! Vai, sì, 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 sì. Hai coraggio, Luca, sì! Vi prendi un braccio. Attento! Ok! Uh! Ce la fa? Dai, Stef, salta, manchi soltanto tu! Mi avete lasciato solo! Dai, ce la fai! Allora, dai, ci provo. Se ci sei riuscito a fare, ci posso riuscire anche io. Vai! Geronimo! Oh! Giusto, giusto! Giusto, giusto, ce l'hai fatta! Mamma mia, che paura! Ok, il primo passo del nostro libro è fatto. Allora, a questo punto noi dobbiamo arrivare lì alla sinistra dove c'è quel piatto, credo. E per riuscirci abbiamo otto blocchi a testa. Quindi cerchiamo di sfruttare gli oggetti del tavolo per sprecarne il meno possibile. Sofferma qui. Ok. Dai, dai, il prossimo! No, vabbè, era fattibile. Oddio, mi sono pensato che sono parte più bella. Accidenti, zitti! Cavolo l'ansia che mi mettete. Si mette il blocco di sicurezza e cade in mezzo. Secondo me un paio possono anche bastare. Così, così. Però serve una bella rincorsa. Ok. Vado io? Come? Sono d'accordo. Prima Fere, prima Fere, sono d'accordo. Vai Fere. Prima Fere Niki, dai. Rincorsa al massimo. Allora, se non basta è colpa vostra, eh. Va bene Fere. Assolutamente. Vai! Ce l'ha fatta? Giustissimo, è giustissimo! Vado io! Pazzai! Tocca a me! Ma aiuto! Molto, molto vicino! Fa troppa paura! Molto, molto vicino! Più vicino di quanto pensassi! Che rischio! Però abbiamo risparmiato un po' di blocchi, quindi non è male. Allora, siamo arrivati qua e guardate un po' cosa ci scrive. Buon volo! Con cosa, scusa? Credo con i pipistrelli. Con i pipistrelli? Penso proprio di sì. Guarda, Espy! Dove è Espy? No, mio Dio! Ma come facciamo a volare con dei pipistrelli? È assurda questa cosa! Sono pipistrelli fortissimi! Oh, che bello! E dove andiamo adesso? Ok ragazzi, adesso allora andiamo nella cucina. Spero che regga. Io spero che regga fino a lì perché il tragitto è lungo. Ecco, come no, aiuto! Andate piano piano piano! Andate piano piano! E poi siamo troppo pesanti! Luca è un po' più in alto, Luca è un po' più in alto! Eccolo, eccolo! Che bellini che siamo! Dove andiamo nel tagliere? Atterriamo nel tagliere? Un po' prima, Fer, un po' prima! Allora... Dove prima? È tutto pieno di fuoco! Nel tagliere! Si inteneva nel tagliere, scusate! Nel tagliere! Non mi rompete le scatole! Grazie mille, Jeff! Meno male che ci sei tu! Sei troppo carino! Grazie mille, Marco! Maialino, manomale che ci sei tu! Ma lo vedete? Grazie mille Instagram! Ma come, Luca? Zero! Luca che si chiama così il tuo pipistrello? È un pipistrello un po' speciale! E dei pipistrelli cosa ce ne facciamo? Se ne volano via e almeno loro vivono in pace, dato che hanno delle ali per, sai... Per salvarsi dalla lava! Di perenza nostra! È vero, sono piuttosto fortunati! Ragazzi, qua c'è subito una cesta! Non è che c'è subito il carbone! Sarebbe un po' semplice! Vediamo! Cosa c'è? Non c'era nulla, era vuota! Non è vero! Ragazzi, era vuota! Non è vero! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Non sono mai vuote questa cesta, cosa c'era? Mi giuro che era vuota! Non era vuota! Era una cesta in trappola fatta al posto per farci dubitare tra di noi, ragazzi! Vi state facendo ingannare dalla mappa! No, no! Taglio via! Ma c'è anche Espi! No! Luca! Ma c'è anche Espi! Ok, ce l'ho fatta! Vediamo se era vuota! Se era vuota non ha più blocchi! Ok! Ok, l'avete brutta voi! L'avete brutta voi! Io mi faccio la mia strada! No, no! Ti stanno facendo senza di noi! E voi mi fate i fatti vostri! Luca, che idea che del cacchio ha avuto! Ciao, Luca! Ah sì, adesso sai che la cesta era piena, però siete rimasti senza! Ne ho quattro gli blocchi! Ne ho quattro anche io, quindi ci possiamo unire! Ma come posso fare il bagno? Yes! Ok! Venite, venite! Si, salto! C'è anche la città! Il lavandino! Ok, perfetto! Devi saltare da una via all'altra ed è super complicato! Quindi penso che sia quella la via, l'unico posto in cui non c'è! Esatto, esatto! E adesso devi andare ancora più a destra! Oh, ma dai! È un vivo! Ah, ah! Che stress questo! Guarda, Fere! Che stress che sta cucina! Allora, la facciamo per i decisi! Ok, ci sono quasi! Ok! Finisco di essere... Ti piace? Quasi alla fine! Moltissimo, Stef! L'ho fatto! Bravo! Monedetto! Ma poverini, mi dispiace! Ammi dammi, bravo! No, no, non sono ancora accorti, Fere! Abbiamo messo un blocco in ogni salto! Voi avete rischiato di morire inutile! E noi eravamo tranquillissimi! Guarda, che ci sono pronto con il pugno, Stefano! No, no! Te lo do anche io, eh! Te lo do anche io, Espi! Cadiamo entrambi nella lava e finisce qui la nostra avventura! Non so se basteranno, io ve lo dico! Tutta calma! Però ci provo! Ok! Dai, dai! Uno! Vai, vado! Fatemi venire a vedere! Lì dentro, ma non c'è niente! No, no! Dovremmo andare lì sotto, ma dai! Io spero che non sia lì! Mi sembra di no! Per adesso non ci andiamo! Se proprio non lo troviamo da nessun'altra parte, torniamo lì a controllare! Ok! Secondo me dobbiamo controllarla! Quella lì è la zona fornelli! Sì, e sai, c'è un po' di fuoco e un po' di lava! Espi, vai per primo? Ci lanciamo! Sì, voglio saltare! Aspetta, devo beccare una zona con poco fuoco, ok? Trovata! Però non sono pronto! Zeronimo! Ok! Oh, che male, che male, che male, che male, che male, che male, che male! Vado! E lo so, hai fatto una pessima scelta! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta! Luca! Ah, a posto! Ragazzi, controllate tutti i fornelli, forza, 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 veloci! Ok, ok, ok! Vediamo se troviamo qualcosa! Qua è pieno di fuoco! Qui c'è subito un cartello, Steph, è al centro di tutto, vieni a vedere! Fammi vedere! Dove, 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 dove! Che dice? Dentro una pentola c'è il carbone, che vi serve, ti entrerà! Eh, allora, eh... Chi va? Non lo so, a me non piacciono le pentole! Allora, è bella alta la pentola, è bella alta! No, sapete cos'è? Che, al momento, il fornello della pentola è acceso, quindi dentro la pentola o c'è lava o c'è fuoco! E noi non abbiamo abbastanza blocchi per andare tanto in alto! Sicuramente c'è fuoco perché sarà bollente, scusa! Credo di sì! Quindi dobbiamo aprire la pentola? Bucchiamo qua! Ragazzi, è pieno di fuoco! Io vado, eh! Ovviamente, è pieno di fuoco! Ui! Tu fatti sta... Aia! Aia! Che male! Tutto calcolato! Luca, possono andare solo loro due? Oh, guardate! Guardate, guardate! È trovata! Un'altra cesta vuota! Un'altra cesta vuota! Non è vuota! Sicuramente non è vuota! C'è il carbone, c'è l'ho scritto sul cartello fuori! Espy, cosa stai dicendo, scusa? È vuota! Cosa è quello? È vuota, Espy! Eh, non lo so, cosa è in mano? Cosa è quella cosa che è in mano? Mi si è bruciata un po' la mano, sai, a furia di toccare il fuoco! Eh, così sì! Vero! Allora, sai cosa? Dalla me, dalla me che l'avrò bruciata! Ok, tieni! Ti dico una cosa! Io ho guardato lo schermo di Steph e non c'era solo il carbone in quella cesta! Allora... Perché io ho visto nel suo inventario qualcosa che lui non dovrebbe avere! Ah, c'è qualcos'altro di interessante! Sì, 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 sì! Ha ragione, ha ragione! Un blocco di pietra! No, 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 no! C'è qualcos'altro! Il libro? Dillo, Steph! Ah, per intendeva libro, certo, certo! No, 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 no! È vero, ne avete scoperto! Attento a non bruciare quello che hai trovato! Sono delle ali! Anche per me, anche per me! Tieni, Espi! Yes! E che ci serviamo? Fede, sai il detto? Chi fa la spia non è figlio di Maria! Vattela a prendere nel fuoco! Dammi le tue adesso, tu rimani qua! No, Fede! Dammi le tue e tu rimani qua! Sono armato! Vado dentro! Non fate così! Lasciatemi! Vivrò da solo, da lì in poi! Basta che dai le ali! Puoi fare quello che puoi! Non ci interessa! Dato che abbiamo le litra, sicuramente dobbiamo planare! Quindi, saliamo in alto e vediamo un pochettino! Perché il libro non dice altro, ragazzi! Quindi, ci dobbiamo arrangiare un po'! E allora, qualcuno con le cesioni ha messo bene, faccia una strada! Come che facciamo? Fate una strada nel muro! Vai, su, su, su! Sta facendo Luca! Sta facendo Luca! Vai, fatelo fare a Luca che è più bravo! Vai Luca, vai Luca, vai Luca, vai Luca! Perfetto! Stavi finendo di sotto! No, ero giusto, ero giusto! Stavi rischiando lo stesso! Ok! Wow, il salto più eroico di sempre, Stefano! Grazie! Allora, da qui cercate... Guardate, c'è pure il balconcino! Come il balconcino? È il manico della pentola! È il manico della pentola! È il manico! Però siamo talmente piccoli che sembra un balconcino, no? È il manico della pentola! No! Comunque, guardate ovunque e cercate una zona dove si potrebbe andare! Allora, a me il frigo sembra totalmente inutile! Eh, no, è il ricoperto di lava, che fai? L'acquario? Allora, guardate bene nell'acquario! Vedete che c'è sia l'acqua, sia un qualcosa di strano... Ma magari è qualche costruzione per i pesciolini, scusa! È un acquario! Non lo so! Per quelle cose che mette... Io non ho mai avuto dei pesciolini, però mi sembra un po' strano quella cosa per un acquario! Dici, è tutto non è sopra! Secondo me, dobbiamo andare lì! Arrivederci! Oh, mamma mia, no, non ce la fa! Ci arriva? Non ce la fa! Non ce la fa! Ragazzi? Non ce la fa! Ragazzi? Luca? Ce la fa? Luca! È scomparso da me! È scomparso? Dove sei, Luca? Ce l'hai fatta? Sì! È così lontano che non lo vediamo più! E va bene, non lo vediamo perché è così lontano! Luca, ci puoi dire che tasto è doppio spazio? Eh, sì! Ok, ragazzi, vado! Io ho un po' di paura, sinceramente! Vado un po' più basso, ma ci sono! Aiuto, Ferri, io provo ad andare! Vai, vai, vai! Geronimo! Sono partito male! Ti vedo arrivare! Arrivo! 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 Vabbè, almeno sono vivo, ragazzi! Non so che dirvi! Ferri! Arrivo anche io, Stef! Mi dispiace! Non ho preso andare! Ragazzi, dove siete finiti? Dobbiamo salire di sopra! Per prendervi, va! Vai, facciamo delle scale! Però almeno non abbiamo preso la lava, è l'importante! Sono l'unico che è arrivato fin qua! Non so come ci sei riuscito! Attentico respiro, eh! Dai, 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 sì, 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 ce la facciamo tranquillamente! Non è molto alta l'acqua! Via! Oh, sì! Vai, Ferri! Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio! Sì, non è molto alta, dai! Ce la si fa tranquilla! Arrivo! Arrivo anche io! Ci stiamo in due espi! Sì, perfetto! Un dirigibile! È davvero un dirigibile? Per la precisione dovrebbe essere uno zepling, ovvero una barca dirigibile! Ok! Perché bisogna essere tecnici qua! Ma non vorrei che lo sentite! Avete dei blocchi per salirci sopra? Non vorrei romperlo! Io ce l'ho! Dino tre! Qualcuno sa pilotare una roba del genere? Eh, io no! Io no! Luca? Io non so neanche come... Sicuramente il carburante va nei motori! Ok! Vabbè, ma qui ci sono dei comandi, ragazzi! Qui nei cartelli ci sono tutti i comandi, eh! Allora! No, Elisabetta! Io ho messo... È vero, si chiama Elisabetta questa nome! Ah, ok! Ok, ciao Elisabetta! Io ho messo il carbone nei motori! Adesso non so cosa dobbiamo fare! Ragazzi! Aiuto! Che succede? Oddio, ma è molto più scomodo nel previsto! Soffro di mal di mare! Ok! Sedetevi bene perché... Allora! Fermi un attimo! Fermi un attimo! Fermi un attimo! Fatemi vedere! Siamo saliti un po' di quota! Ok! Adesso noi teoricamente dobbiamo girarci e arrivare alla porta! Siamo arrivati? Sì! Siamo arrivati? Sì, sì, sì! Siamo arrivati! Ho già iniziato a mettere un blocco! Però c'è un problema! Allora! Noi dobbiamo arrivare alla porta per farla esplodere! Però non possiamo avvicinare troppo la nave perché altrimenti esplode la nave! No, certo, certo, certo! Espi, sei pronto? Vai! Sono pronto! Vai, piazza la TNT! Sì, vai! Lì è perfetta! Sicuramente non faremo danni! Ok! Allora, attenzione! Adesso la cittura e scappo! Vai! Aiuto! Vieni, 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 vieni! Aiuto! Ok, ok, iniziamo a ragionare! C'è un tu nel dietro! Sì! C'è qualcosa! Allora! E c'è il mondo! C'è il mondo là fuori, lo vedete? Finalmente usciremo da questa casa! Siamo vicini! Ora tocca a voi però! Allora, io direi... Vai, Espi, passa! Passa, 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 passa! Direi che con le cesoie possiamo provare... No, aspetta, ragazzi, abbiamo un problema! Quale? Non c'è più la maniglia! La maniglia deve saltare, noi non abbiamo blocchi per riarrivare lì! Qualcuno di noi, di noi quattro, si deve sacrificare perché vola con le litra lì, fa esplodere tutto e si sacrifica per gli altri! Ma non può risaltare sopra la nave una volta che fa esplodere le cose? Non credo che sarà fattibile! Ci si può provare ma non lo so! Va bene, dai, allora me ne occupo io! Va bene! Ma male che c'è, Espi! Buona fortuna, Espi! Oh, ok! A me non interessa fare l'eroe! Allora, secondo me una alla sinistra e una alla destra e una in alto! Oh, no, 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 no! Piano, 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 piano! Dai! Ok! Oddio! È andata bene, è andata bene, è andata bene! Allora, a questo punto ne serve un altro uguale alla sinistra e forse riusciamo anche già a passare! Attenti! Ce l'ho fatta Luca! Attenti! Aiuto! Ok! Dovrebbe bastare! Secondo me passiamo! Dovrebbe bastare? Dai, proviamo, proviamo! Espi, buca un pochettino per terra magari prima di andartene, ok? D'accordo! Vai, buca, 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 buca! Pezzo di maniglia, Espi, toglilo! Sì, anche il pezzo di maniglia che se no ci ancoraiamo lì! Attento! Dai, Espi, vieni, 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 vieni! Ah, perché ti sei mosso? Oh mio Dio Luca, così fatto! Dritti, dritti! Forza che ce lo facciamo! Forza che finalmente ce lo facciamo! Dai ragazzi! Si muove tutto! Ah, che fatidia! Io la odio sta nave! Ok, ok, ci siamo, ci siamo! Piano, rallentate! Ce l'abbiamo fatta! Siamo fuori? Oh, finalmente siamo nel mondo! Non ci servono più, siamo liberi! Esatto! Andiamo a vivere la nostra vita! Sapete come possiamo festeggiare? Come? Con questi! Cosa? Guardate! Avete capito quello che intendo? No, lascialo stare, vattene! Fede! Lascialo sta... Stef! Ok, Fede! Vai via! No, no! È il mio nuovo animaletto domestico! Luca, non lo toccare! Allora prendiamo quest'altro, va, questo come va bene! Sono tutti miei! Certo! Certo! Grazie per la visione!